Buongiorno, ti presento M17, è il top dell'offerta consumer di HP per il prossimo Mac to School. Un prodotto che rappresenta l'eccellenza della tecnologia mobile, sia dal punto di vista del design, che dal punto di vista delle performance, che dal punto di vista del coinvolgimento multimediale. Partiamo dalle performance. Core i7, quad core mobile di Intel, 6 giga di memoria RAM, 1 terabyte di storage su due dischi da 500, 7200 RPM, un AT Radio HD 5850, quindi supporto del DTX11 del 3D, 1 giga di memoria dedicata DDR5, lettore Blu-ray, display Full HD nativo 1920x1080, audio Dolby Digital, che grazie ai 4 tweeter frontali e al subwoofer sotto lo chassis, è in grado di offrire un'esperienza audio di primissimo livello. È il prodotto ideale sia per il videogiocatore, che per tutti gli appassionati di audio, video e foto editing, che per tutti coloro che utilizzano il nodo per fluire di contenuti multimediali in alta definizione. facciamo provare in anteprima la tecnologia The Infinity, supportata dalla scheda grafica THD5850. Abbiamo collegato al computer, grazie alle tre uscite video, tre mauritore, e oggi facciamo dare una demo di Griega, portiamo il dista in macchina, un bel rottore.